Chi ha aspettato voi altri? Abbastanza. Magari lei? Un poco. Però loro sono arrivati adesso. Ah. Io ho prima di tutti. Allora prima. Seconda. Adesso o quattro? Ecco. Avemo il numero. E ancora non si rompono quando stavo dopo. E perché si rompono quando vuole? Che a me non è nemmo, no? Però ne rompiamo quando magari non è, signora. Ma lei è in giro. Io è in giro. Si rompono quando. Se si rompono quando non è arrestato tutti. A me non si rompono quando non è nemmo. A me non si rompono quando non è arrestato. A me non si rompono quando non è arrestato. A me non si rompono quando non è arrestato. Ma facete tutti i giorni così? Peggio. Se domani lei vuole avere se vieni un po' dietro, no? A questa oltre.